Sono Jacopo Entini e rappresento il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Vondra. Il Collegio da tempo fa parte del comitato tecnico del BioEcoLab in quanto crede molto a tutta una serie di progetti che sono legati agli edifici per il territorio. Stamattina per esempio c'è stata una giornata molto importante nella quale si è parlato della riqualificazione energetica degli edifici condominali. È un aspetto molto importante per il territorio perché come sappiamo gli edifici condominali sono presenti per larga parte sul territorio rispetto a quelli unifamiliari o indipendenti. Pertanto questo aspetto porta a un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e pertanto anche un forte contributo di riduzione della CO2 nell'atmosfera e vi risparmio anche sulla bolletta dei consumi. In Ea di principio è questo che si è trattato, argomenti molto interessanti che dovrebbero essere anche seguiti dai cittadini che in questo caso qua proprio gli riguardano direttamente le loro tasche.